Allo studio c'erano un sacco di ragazzi che mi hanno chiesto Possiamo partecipare anche noi a domenica? E io ho detto entrate, che sapete fare? Sapete cantare? Entrate, qualcosa faremo E che combina? Magari non li mettiamo uno contro l'altro No, 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 senza gara Cerchiamo di farli stare tutti insieme in un gruppo Ragazzi, no? Ragazzi, sì, ecco Come li hai chiamati? Siccome sono variopinti I ragazzi dell'Arcobalero E presentali, forza! Ok, andiamo! Marvin e Anna Maria Davide e Paolo e Chiara Nicola e Claudia Luciano e Fani Mimmo e Myri Morris e Ginta Claudia e Noemi Deca e Sara Rimi e Walter Mirko e Alessandro Marco e Floriana Pippo Ha scritto qualcosa per loro Una sigla Il Lo L'isola La